Siamo iniziata, ci sono due campanelle, ci sono due campanelle, c'è un paese molto meraviglioso, con molti decorazioni e piccoli, tutto sulle religione della cattolica. Questo è un paese molto meraviglioso, dove tutti i turisti di tutto il mondo visitano. Se volete vedere un paese molto antiche, siete benvenuti a visitare questo paese. Ciao!